Il clima da rompete le righe in aula stamane per il parlamentino cittadino di Nocera Inferiore sta per chiudersi un ciclo, quello sotto la presidenza De Nicola, iniziata con l'elezione del sindaco Malio Torquato l'11 giugno 2017, eletto con la coalizione Lista Civica Torquato Sindaco, Partito Socialista Italiano, Unione di Centro, Lista Civica Uniti per Torquato, Centristi per l'Europa, Liste Civiche e Partito Democratico. Il parlamentino cittadino ha avuto dunque sempre un ruolo importante nella vita e nel destino dei sindaci ed anche, direttamente o indirettamente, degli esecutivi che hanno affiancato le gestioni sindacali. Dibattiti accesi ed accorati hanno distinto anche l'attuale assise di Nocera Inferiore che in qualche modo ha determinato dai banchi della maggioranza, ma anche da quelli dell'opposizione, la vita e la qualità della stessa negli anni. Il 12 giugno i nocerini saranno chiamati ad esprimersi e da scegliere il nuovo sindaco, ma anche i nuovi consiglieri comunali. Scelte che non andrebbero fatte con superficialità, ma in coscienza e con la piena consapevolezza che dai futuri amministratori dipende il destino ed il futuro della città capofila dell'agro. Intanto oggi un velo di tristezza aleggiava nella storica aula consigliare, sede di tante battaglie e nella quale sono passati uomini e donne della politica con la P maiuscola. Grazie. Grazie a tutti.